L'impegno dei carabinieri a Gela sul territorio è importante e l'inaugurazione quest'oggi di una associazione nazionale riconducibile proprio ai carabinieri nella testimonianza più eloquente. Sì, in effetti è così, l'impegno qui è ovviamente importante per cercare di assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica e la vicinanza alla popolazione come è d'altronde in ottemperanza i nostri compiti istituzionali e secondo le nostre tradizioni. L'inaugurazione di una nuova sede e la sezione dell'Associazione Nazionale Carabinieri è sicuramente un evento importante e molto significativo perché evidenzia come certi valori che ci sono propri si mantengano non solo quando siamo in servizio ma anche quando il servizio attiva cessa proprio perché certi valori rimangono immutati in chiunque abbia vestito il nostro uniforme di alamari e quindi questa sezione sarà certamente un punto di riferimento ulteriore per la cittadinanza e per la vicinanza alla popolazione e di riferimento per le istituzioni. E quale sarà il compito? L'Associazione Nazionale Carabinieri come suo intendimento è quello di mantenere la solidarietà e l'assistenza tra i carabinieri in congetto ma mantenere anche il contatto con i carabinieri in servizio e con la popolazione e recentemente poi il suo impegno si è stesso anche a sociale con varie forme di volontariato e quindi sicuramente come dicevo sarà un punto importante di vicinanza alla popolazione e di aiuto. E la popolazione però già rese chiede più presenza delle forze dell'ordine in città? La presenza delle forze dell'ordine è quella che viene stabilita dall'organizzazione sul territorio che fa capo agli organi competenti, alle autorità competenti. Come dicevo prima l'impegno è sicuramente forte perché è sicuramente primario garantire l'ordine della sicurezza pubblica e la vicinanza alla popolazione in tutto quello per cercare di rispondere sempre al meglio e con efficienza alle esigenze di questa. Ultima domanda, si è carabinieri sempre per tutta la vita? Si è carabinieri sempre per tutta la vita, non c'è dubbio.